Una delle cose che mi ha fatto sentire più scomodo nella mia vita è sicuramente IF, perché quando abbiamo deciso, ormai sei anni fa, sette anni fa, di iniziare questo festival, né io né tanti altri assieme a me sapevamo come gestirlo e ci siamo dovuti improvvisare, inventare, imparare un sacco di cose e non è stato comodo, è stato molto complicato, ma come spesso succede, le cose più complicate poi sono quelle che danno più soddisfazione. Grazie a tutti.